Non tradisce le attese il big match del quarto turno del girone H di Serie D. E 3-3 tra Casarano e Palmese in un incontro ai limiti della follia. 6 gol, 2 cartellini rossi, un rigore sbagliato da Malcore, poi giudice nel recupero sempre dagli 11 metri. Un bello spot per il campionato insomma. Il Casarano mostra tenacia e velocità di gioco. La Palmese, ormai non più una sorpresa, perde il comando ma esce tuttavia con un buon punto in saccoccia. Con lo iodice ancora piedato, la terza ruota la profonda rosa a disposizione. Prima da titolare per Saraniti, con Malcore in panchina insieme ad Opola. C'è Valentino, per lo squalificato Martinenco in corsia. Al centro, ancora il duo Rizzo Morales. Stranipante fin qui il cammino della Palmese di Teore Grimaldi. Tridente leggero, con Sant'Arpia e Orefici ai lati di Volpe. A Ceparano, il compito di far filtro in mezzo al campo. La prima frazione è ad alto voltaggio. La novità, Ander Malagnino, scarica per Cerutti. Pollini c'è e allunga in angolo. In prime, una marcia alta alla partita, la formazione salentina. Versienti, evita Orefice, trovando la torsione vincente di Saraniti. L'attaccante, scatta in posizione regolare. Palle in buca d'angolo, è 1-0 Casarano. Davvero spavalda la Palmese. Volpe, in estirada, tocca per Orefice. Meraviglia, sotto l'incrocio, è 1-1 Campano. Nulla da fare per Alloi e nuova parità al dodicesimo. L'equilibrio dura esattamente 4 minuti. Sant'Alpia, calce in diagonale, trovando il blitz a centro area di Volpe per il sorpasso rosso-nero. Neanche due giri di lancette e la Palmese regala praticamente il pareggio al Casarano. Manzi se la fa scappare da sotto le gambe. Malagnino, incredulo, entra in porta col pallone facendo 2-2. È successo di tutto, ma sono trascorsi solo 17 minuti. La Palmese lavora benissimo tra le linee. Sant'Alpia, triangola con Volpe nello stretto, sfortunato col palo, fortunatissimo con il tocco di schiena di Alloi. Zero colpe per il portile di casa, ma c'è il nuovo vantaggio ospite. Addirittura la chance per l'allungo la squadra di Grimaldi. Orefice, scappa a Rizzo che non può tamponarlo. Piazzato a botta sicura ma è palo pieno. Poi ancora Orefice per Ocoglie, murato dalla difesa. Torna Ruggi del Casarano. Valentino slalomeggia bene a sinistra, Pollini blocca a terra. Più complessa, la respinta sulla punizione di Logoluso, ma è 2-3 all'intervallo. La terza inserisce Teio e Malcore e i due subito incidono. Il primo crossa, il secondo si fa urtare dalla difettosa uscita di Pollini. C'è Malcore dal dischetto. Destro scarico, Pollini si riscatta con la presa sicura. Sembra girare tutto storto al Casarano. Teio entra in maniera scomposta su Coppola. Per il signor Ranieri è rosso diretto e Salentino in 10. Ingenuità da una parte, ingenuità dall'altra. Volpe, in maniera troppo furba e vistosa, si lascia cadere in aria. Doppio giallo e parità numerica subito ristabilita. Ganfornina impegna Pollini direttamente dalla bandierina. Poi è Magliocca ad avere sul destro il match point. Il 54 resiste e calcia, mettendo sul fondo da pochi passi. Subentrati ancora in evidenza, ma questa volta è negativo. Allo scoccare del novantesimo, Virgilio prima perde palla, poi placca Ganfornina sotto gli occhi del direttore di gara. Nessun dubbio nell'accordare il secondo rigore di giornata al Casarano. Dal dischetto, senza timori Malcore, sceglie lo stesso angolo, con esito diverso. E 3-3 Casarano al novantesimo. Risultato giusto e spettacolo invidiabile per il pubblico del capozza tra due protagonisti di questo campionato. Il Casarano sale a 8 punti e domenica prossima a fronte del Fasano in trasferta. Per la Palmese, uscita contro il Brindisi, fanalino di coda.